Impiegare congiuntamente il Corpo di Polizia Metropolitana di Napoli e gli agenti della Polizia Provinciale di Benevento in azioni di prevenzione, contrasto e repressione dei crimini ambientali, promuovendo politiche di sicurezza integrata convergenti con il coordinamento e l'impulso della Procura della Repubblica di Benevento per l'attività investigativa di repressione del settore in esame. Unire quindi la competenza e la professionalità sviluppata di recente, particolarmente dalla Polizia Metropolitana di Napoli, nelle diverse attività di indagine e prevenzione di repressione in materia ambientale, estendendo l'utilizzo di strategie di alto impatto, come i cosiddetti Action Days, dedicati al fenomeno dell'abbandono incendio dei rifiuti, la cosiddetta terra dei fuochi, che si traducono sul campo in azioni di polizia giudiziaria ed esclusiva materia ambientale, preceduti dall'attenta analisi investigativa, per contrastare con sempre maggiori efficaci e reati che travalicano i confini dei territori provinciali, con conseguenze nefaste sulla salute, sull'ambiente e la sicurezza della cittadinanza e dei territori. E questo è il nucleo dell'accordo firmato dal Procuratore Generale della Repubblica di Napoli, Luigi Riello, dal Procuratore della Repubblica di Benevento, Aldo Policastro, dal Sindaco della città metropolitana di Napoli, Luigi De Magistris, dal Presidente della provincia di Benevento, Claudio Ricci, e dal Prefetto di Benevento, Francesco Cappetta, che sarà inviato alla Prefettura di Napoli per la presa d'atto. L'intesa prevede che il coordinamento delle operazioni sarà assunto dalla Polizia metropolitana di Napoli, che fornirà il know-how per le politiche di sicurezza integrata, a supporto della Polizia provinciale di Benevento e delle altre amministrazioni provinciali che successivamente vorranno aderire. La Polizia partenopea e quella sanita assegneranno uomini, attrezzature, mezzi e risorse, numero sufficiente allo svolgimento delle operazioni. Lo stato di attuazione del protocollo sarà verificato attraverso tavoli periodici di monitoraggio, allo scopo di definire standard e linee strategiche di intervento condivise. L'intesa nasce dalla consapevolezza che il fenomeno della terra dei fuochi è trasversale e che beneficia dell'attuare disomogeneità dell'attività di contrasto. Occorrono dunque l'ottimizzazione e l'impiego di tutte le risorse e competenze disponibili in materia, che devono operare secondo protocolli comuni, capaci di favorire l'interscambio delle buone pratiche e delle esperienze messe in campo. A tal proposito, la Polizia della città metropolitana di Napoli, si legge nel documento, è Polizia di prossimità specializzata, con una presenza capillare sul territorio e con una conoscenza approfondita dei luoghi e delle dinamiche illegali in ambito ambientale, dove ha dimostrato competenze e professionalità. La collaborazione tra i due corpi può dunque comportare notevoli benefici per la Procura della Repubblica di Benevento in relazione alle attività investigative poste in essere al fine di contrastare le aggressioni al territorio connesse alle attività illecita di raccolta e allo smaltimento dei rifiuti.